incrociamo i bestioni ho preso comunque la mia bicicletta e sto uscendo non sto uscendo sono già uscito ho quindi pensato di far falla vorrei farvi vedere se ci riesco un caro amico dell'fpv racing molto più freestyle lui che racing a parte del carlo e quant'altro non si dice quant'altro vero quindi ho pensato di uscire comunque in bici